Buongiorno a tutti. Oggi mia intenzione è riprendere un argomento lasciato in sospeso la volta precedente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Una volta disegnate tutte le nostre linee di taglio derivanti dalla segmentazione automatica del modello, passiamo alla fase successiva che è quella della determinazione degli assi per ogni singolo elemento e della posizione del centro di resistenza. Il centro di resistenza per definizione è il punto al quale poi il nostro elemento andrà a ruotare. È importante perché in base alla angolazione dell'asse principale e alla posizione del centro di resistenza il programma ci cuoterà i movimenti e di conseguenza stabilirà il numero degli allineatori nella fase finale. Il programma ci propone una sua prima ipotesi. Per comodità toglieremo la gengiva. E quello che noi possiamo notare subito è questo. Abbiamo una parte di configurazione. La configurazione è quella parte della fase che rimane ferma per tutte le volte successive per cui una volta che andiamo a modificare quello le volte successive non avremo più bisogno di farlo se non in casi specifici in cui decidiamo di procedere in maniera diversa. Per cui dal menu a tendina nel caso in cui volessimo spostare il centro di resistenza rappresentato da questa linea azzurra dalla corona alla radice lo possiamo fare selezionando il centro di rotazione sulla radice e lui ce lo sposterà per tutti gli elementi. Nel caso in cui per un elemento decidessimo di procedere in maniera diversa possiamo fare questo. Lo selezioniamo da questo menu tendina quindi non più da quello ma da questo andiamo a cambiare la selezione e lui ce lo pone sulla corona. Quindi avremo gli elementi con un centro di resistenza sulla radice e questo e solamente questo sulla corona. Quindi ora dobbiamo andare a determinare gli assi degli denti. Procediamo con quelli che sono palesemente palesemente sbagliati. Abbiamo la possibilità di vederlo nel contesto di tutta l'arcata oppure di andarlo ad isolare. Attraverso questi cursori possiamo praticare una traslazione dell'asse mentre invece attraverso il manipolatore andiamo a modificare quelle che sono le angolazioni. Tendo a specificare che non stiamo facendo nessun tipo di movimentazione vera e propria ma soltanto stiamo determinando l'asse. Quindi non stiamo spostando i denti stiamo spostando l'asse di ogni di ogni elemento. Il pallino rosso rappresenta il punto FA quindi il centro geometrico della corona clinica. Questo è un parametro che ci può servire per posizionare meglio l'asse. I valori che vediamo espressi in gradi qua in alto sono le inclinazioni del denti in base al piano occlusale stabilito in precedenza, stabilito all'inizio di tutta la procedura. Questi parametri ci possono essere utili in caso di richieste particolare di movimentazione. Possiamo importare radici da TAC 3D logicamente trasformate in file STL ma questo sarà un argomento di un'altra occasione. Abbiamo la possibilità di spostare il centro di resistenza anche in altezza andandolo a modificare con questi parametri. Vedete che si sposta e lo possiamo fare anche qua singolarmente per ogni elemento oppure per tutta l'arcata applicando questo selettore. Direi che siamo pronti per passare alla fase successiva. e qui abbiamo il modello pronto per andare in fase di setup e quindi di movimentazione. Quindi da virtual setup, icona virtual setup e passiamo al cuore del programma stesso. Scusate, non andiamo a togliere solo... Eccolo qua. Vedete, abbiamo le radici, i nostri denti e possiamo andare a vedere che negli elementi in cui abbiamo lasciato il centro di resistenza sulla radice il manipolatore logicamente sarà posizionato in quel punto. Questo elemento invece in cui abbiamo deciso di spostare il centro di resistenza sulla corona avrà il manipolatore posizionato in quel senso. Va da sé che se è posizionato in questo punto i movimenti saranno di questo tipo e quindi verranno valutati di conseguenza se sono sulla radice avremo un altro tipo di quotatura di movimenti. Questo è tutto, discrezione dell'operatore. Sperando di esservi stato utile anche in questa occasione e considerando il fatto che il mio caffè è diventato freddo e quindi me ne dovrò preparare un altro, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.